Mi ricordo una volta stavo a Buenos Aires, stavo con la mia guida personale, Gustavo, e mi trovavo in una di queste milonghe, nei locali da ballo di Buenos Aires, e vedo una cosa a me totalmente sconosciuta, donne e uomini che si guardano come in un rituale di danza. Allora chiedo a Gustavo, Gustavo, cosa stanno facendo? Scusa, es mirate cabaseo? Mirate cabaseo? Cos'è? Cos'è es mirate cabaseo? E' una modalità educata e rispettosa di invitare le donne a bailarne. E' presente nel codice del comportamento di tutti i danzatori delle mie.